rivivi classici con un'iscrizione a nintendo switch online accedi a un ricco catalogo che include oltre 150 giochi per ness super ness e game boy oppure con il pacchetto aggiuntivo puoi accedere anche a titoli per nintendo 64 game boy advance e tanto altro per ulteriori informazioni su come iscriversi visita il nintendo e shop grazie